Il 23 di gennaio c'è la manifestazione nazionale Svegliati Italia. In 72 o più piazze, ancora non è un numero preciso, d'Italia scenderanno in piazza tutta la società civile in una manifestazione che è organizzata principalmente da agedo, arci gay, arci lesbica, famiglia Cobaleno e MIT. Qua a Genova il coordinamento Liguria-Rembo ha organizzato la manifestazione. Perché scendiamo in piazza? Perché dal 28 di gennaio sarà in discussione in Senato il cosiddetto DDL Cirinna, ossia il primo tentativo concreto da più di 20 anni di garantire un livello minimo di tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso. Ha la possibilità a due persone dello stesso sesso di unirsi in unione civile. Questa unione civile dà dei diritti, quali il diritto alla reversibilità, il diritto di successione, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto al subentro nel contratto di affitto e, cosa più importante, dà la possibilità a due persone omosessuali di usufruire del cosiddetto concetto dell'Istituto della Step Child Adoption. Quell'istituto giuridico che permette a uno dei due membri della coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio biologico del compagno. Quindi questo istituto darebbe la possibilità al genitore non biologico di diventare genitore del figlio del compagno, di un progetto di vita fatto insieme. Intanto è una tutela minima che viene riconosciuta a questi bambini. Minima nel senso che il genitore diventa genitore, sì, però ha delle condizioni, nel senso che il figlio non avrà mai legami di parentela con i propri nonni del genitore non biologico, non sarà mai fratello o sorella dell'altro figlio che non viene adottato, non avrà diritti ereditari nei confronti della famiglia del genitore che lo adotta. È importante precisare che questa Step Child Adoption è il passo minimo da cui noi vogliamo partire, perché si vuole arrivare al matrimonio egualitario e alla tutela piena per le coppie omosessuali. Quello che l'opinione pubblica certe volte ignora è che la Step Child Adoption è un istituto creato per i minori, per i bambini. È dal 1983 che la Step Child Adoption per le coppie eterosessuali è stata istituita in legge. Permette dal 1983 per le coppie eterosessuali di poter adottare il figlio del proprio coniuge. E addirittura dal 2007 molti tribunali hanno riconosciuto questa possibilità di Step Child Adoption anche alle coppie eterosessuali che sono in un'unione di fatto. Ilaria pensa che tutti i paesi dell'Unione Europea e non solo, l'ultimo esempio grandissimo è l'America, hanno il matrimonio egualitario. Non tutti i paesi europei hanno il matrimonio egualitario, ma hanno le unioni civili. Penso che se qualsiasi politico leggesse la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'uomo a cui l'Italia aderisce pacificamente, riconoscerebbe che non dare i diritti alle persone omosessuali discriminando il proprio orientamento sessuale è una vera e propria negazione dell'uguaglianza sancita della nostra Costituzione. Il DDL Cirinà sia proprio il primo minimo passo che il Parlamento europeo nel 1994 ha invitato l'Italia a fare e sia il minimo passo per arrivare al matrimonio e ugualitario di tutte le coppie, quindi sia eterosessuali, cosa che c'è già, ma anche le persone omosessuali che devono poter fruire di tutti i diritti che anche le altre persone godono, perché altrimenti si rischia quello che è avvenuto in America fino ai primi del Novecento e anche dopo, ossia che il colore della pelle determini i diritti che una persona può avere e i diritti che non può avere, infatti il diritto naturale americano prevedeva che solo una coppia di persone bianche potessero essere sposate, mentre una coppia, due persone di colore diverso non era previsto dal loro diritto naturale di allora di poter essere sposate. Questo cosa insegna? Che il diritto e la famiglia naturale è un concetto creato dall'uomo che va di pari passo con l'evoluzione della nostra società. Continuare a ostinarsi a dire che non è naturale una famiglia formata da due persone dello stesso sesso, significa non volersi evolvere ai tempi e continuare a discriminare le persone. Siamo rimasti gli ultimi, forse c'è ancora la Russia di Putin, ma penso che ci supererà anche la Russia e la situazione è grave, nel senso che nel luglio del 2015 la Corte di Strasburgo ci ha sanzionato perché non ci siamo dotati di un sistema di tutela per le coppie dello stesso sesso, neanche minimo, perché non era previsto obbligatoriamente il matrimonio, ma neanche le unioni civili ci sono state istituite nel nostro paese e direi che è arrivato il momento di opporsi ancora alle tendenze che ci sono di contrastare questo diritto e giungere al seppur minimo briciolo di passo a delle unioni civili, per poi arrivare al matrimonio è ugualitario, questo lo sottolineo sempre. Io sono comunque cresciuta in una cultura cattolica e per quanto so io, penso che nessuno mi possa dire di no, il cattolicesimo ama il prossimo tuo come te stesso, quindi il fatto di poter concedere dei diritti alle persone dovrebbe essere, il diritto alla felicità dovrebbe essere qualcosa che rende felici tutti, in una società civile dove tutti sono felici e hanno pari dignità si vive meglio, quindi non scardina nessun tipo di famiglia, semplicemente si aggiunge una cosa per stare meglio tutti. L'appuntamento è il 23 di gennaio alle ore 15 in piazza della Meridiana, faremo un corteo che ci porterà da via Garibaldi, giungerà fino in piazza dei Ferrari, previsto arrivo per le 16, 16 e 15, fino alle 17 staremo tutti in piazza insieme, adulti, bambini, etero, omosessuali e chi più ne ha più ne metta. Ci appelliamo alla politica perché accolga le nostre istanze che vanno avanti già dal 1997 direi. Ci vediamo sabato, al freddo e al gelo, ci vediamo sabato.